ecco qui ci troviamo nei colli assisani e oggi abbiamo preparato una piccola degustazione dell'olio nuovo dell'olio dell'annata 2020 2021 guardate il colore di quest'olio è un olio puro exa legina di oliva vediamo da vicino si sente un profumo intenso di olive e non è altro che natura oggi è una giornata soleggiata ma anche molto ventosa vedete che qui abbiamo anche dei vasi di olive che vengono preparati secondo la tradizione sono olive conservate in olio d'oliva e condite con aglio e peperoncino secondo l'antica ricetta grazie